Buonasera, diciamo basta ai talent show che siamo abituati a vedere di questi tempi in tv, questi talent show con bambini di 4 anni che cantano come Janis Joplin, come Tom Weiss, come Caruso, questi talent show che danno ai nostri figli una visione distorta del mondo e del talento. C'è Pasetto, questa sera, presenta una carrellata dei vincitori dei nostri migliori format di talent show e vogliamo iniziare con il vincitore di Io Cablo. Passiamo poi al vincitore di Iokako. Ora il vincitore di Io Cado. Il vincitore di Io Calmo Il vincitore di Io Calmo Il vincitore di Io Cambio Il vincitore di Io Campo Il vincitore di Io Cado 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 Il vincitore di Io Casco Il vincitore di Io Cado Buonasera Il vincitore di Io Cado